Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ieri si è nuovamente recato in una visita in Sicilia, questa volta ad Augusta. Questa è la quarta visita della sottoscritto in dieci mesi in Sicilia, una chiara dimostrazione della centralità di questa regione, ha detto. Il numero dei passeggeri del trasporto aereo in Sicilia aumenta, ma una volta sbarcati ci sono problematiche infrastrutturali, non c'è interconnessione aggiunto. Dobbiamo ragionare su come efficientare i sistemi di trasporto senza mai dimenticare l'economia portuale. Solo così riusciremo a cogliere l'opportunità turistica di sviluppo che la Sicilia ha, ma non ha ancora colto. Il ministro ha fatto riferimento a una delle arterie incompiute. La Regusa Catania è uno dei dossier che ho gestito in prima persona, ma non possiamo creare una struttura che poi non verrà utilizzata perché per poche decine di chilometri potrebbe avere un pedaggio di 15-20 euro. La dobbiamo fare perché possa costare quei 3-4 euro che sappiamo essere sostenibili per chi vuole spostarsi. Siamo a buon punto. Nell'ultima riunione CIP è stata ribadita la centralità di questa struttura e su questo stiamo lavorando.